Promuovere la scienza con la S maiuscola rendendo protagonisti i più giovani. Con questo obiettivo il liceo scientifico siciliani di Catanzaro ha organizzato l'iniziativa Open Science, la scienza raccontata dai ragazzi, arrivata alla terza edizione. Un intero pomeriggio durante il quale gli studenti dei liceo siciliani e quelli delle scuole medie Casalinuovo, Gallupi e Pascoli si sono alternati per spiegare progetti ed attività, ma anche per interagire e affrontare temi scientifici, un nuovo modo di fare orientamento e anche di divulgare la scienza. L'idea è nata tre anni fa, l'idea era quella di pensare ad una scienza aperta, ad una scienza raccontata dai ragazzi. Questa sera infatti noi insegnanti siamo stati dall'altra parte ad ascoltare i nostri studenti a parlare di scienza, studenti che sono studenti della scuola media e studenti della scuola superiore. L'idea, l'iniziativa è del liceo scientifico siciliani che insieme con alcune scuole medie del territorio hanno accolto l'invito a partecipare, in particolare la scuola media Casalinuovo, la scuola media Gallupi e la scuola media Pascoli di Catanzaro che con le professoresse di matematica e scienze hanno organizzato i lavori, sono stati tutor dei ragazzi che hanno effettuato delle micro comunicazioni, delle micro comunicazioni di scienza alternandosi con i ragazzi dello scientifico. Noi abbiamo una scuola al momento che ha alcune curvature particolari, noi restiamo sempre un liceo tradizionale dove c'è lo studio del latino, dove c'è lo studio dell'italiano, ovviamente dell'inglese, ma abbiamo tanta matematica e tanta fisica. In aggiunta abbiamo tre curvature importanti, in particolare quest'anno per il triennio è stata attivata la curvatura biomedica che ha l'obiettivo di formare proprio i futuri studenti e di metterli proprio a contatto con il mondo sanitario e con il mondo medico, un aggancio proprio verso quella materia, cioè la scelta universitaria di medicina che tanto sta a cuore a tanti studenti che appartengono alla nostra scuola. Poi inoltre abbiamo la curvatura di tecnologica, abbiamo poi dei laboratori di tecnologia, stampante 3D, abbiamo tecnologia molto avanzata e infine abbiamo ancora un percorso di matematica, del liceo matematico che mette in contatto proprio la matematica che da sempre è ritenuta una materia arida, se vogliamo, una materia ostica invece facendola avvicinare agli studenti e mettendola in contatto con tutte le altre culture. Open Science è un progetto ideato per mostrare ai ragazzi di scuola media il nostro modo di approcciarsi alla scienza, in cui per scienza si intende non solo la matematica ma anche la fisica, la biologia e la chimica. È anche un modo per comprendere i diversi punti di vista perché mentre il nostro approccio magari è più formale, quello di un ragazzino di scuola media è più sperimentale, è più passionale in un certo senso e allo stesso punto quindi possiamo arrivare a una visione d'insieme che serve entrambe le parti per capire al meglio questo linguaggio matematico che in realtà è uno solo.